Dalle nostre parti abbiamo, varenzole, le webseries dei TACAL, nelle quali assistiamo ad esempio in ordine sparso delle conversazioni possibili tra vicini e di casa, che discutono da un balcone all'altro. Si direbbe non accada esattamente lo stesso oltreoceano, soprattutto, se i protagonisti della COSA sono due degli attori più titolati al mondo, che improvvisamente si scoprono di rimpetta. È accaduto a Brad Pitt, che ha poco bisogno di presentazioni, e matteo MC Conagay, premio Oscar, per Dallas Buyers Club, quotatissimo nei tempi recenti. È accaduto qualche giorno fa, quando MC Conagay si trovava a New Orleans insieme alla sua famiglia e, improvvisamente, tutti sul balcone, ha visto gli altri cominciare ad indicare qualcuno o qualcosa. L'attore ha aguzzato gli occhi e ha capito subito di avere a pochi metri di distanza in linea d'aria Brad Pitt, che si trovava lì casualmente. I saluti di maniera sono stati luogo, ma Pitt si è anche prodigato in una goliardica dimostrazione della sua proverbiale umanità prendendo una birra e lanciandola da un palazzo all'altro a MC Conagay. Fatto che i fotografi non potevano non immortalare, così come non abbiano potuto non fotografare il premio Oscar Bersela, quella birra, chi se ne frega.